Eccomi cari amici sono tornato nella mia città a Verona e questa sera siamo effettivamente vicino a uno dei punti molto importanti della città che è Castelvecchio, dove raccontiamo la storia, dove cerchiamo la cultura, dove effettivamente tutto questo si riunisce attorno al nostro canale di televisione web che è Black & White TV. Dunque lo potete trovare su Facebook, lo potete trovare tramite YouTube, lo potete trovare tramite il nostro sito internet ed è lì che oggi dobbiamo credere sempre di più perché è la televisione di Verona ma soprattutto la televisione del Veneto dove noi troviamo i contenuti e non più solamente i numeri. Perciò imprenditori pensateci a questa cosa, non vedete solamente il dato numerico perché è un simbolo ma dovete valorizzare il contenuto, questo è veramente 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 importante perciò andate oltre, guardate, pensate e ragionate a tutto quello che circonda il mondo della televisione oggi, non è più solo uno spot, è una storia, è un racconto. Mi raccomando state con noi! Grazie a tutti!